Mister Iannini, domani c'è questa sfida tra Fasana e Andria, inizia il campionato? Sì, inizia il campionato, iniziamo a fare sul serio una partita molto importante con una squadra importante. Una squadra che è sicuramente allestita per il salto di categoria, però il pallone è rotondo e il campo può dare sempre sorprese. Noi ci giocheremo la nostra gara con i nostri principi, con il nostro modo di fare, rispetteremo l'avversario ovviamente, ma noi ci giocheremo le nostre carte. Il fatto che si tratti di una sfida tra due squadre entrambe propositive può facilitare anche il Fasana che si è visto invece un po' ostacolare dal Matera che ha giocato arroccato dietro? Sicuramente vedremo una partita bella, intensa, con due squadre che vorranno cercarsi nel confronto. Noi andremo a confrontarci con una squadra importante, vogliamo imporre anche noi le nostre idee e in ugual modo farà la Fidelis. Poi ci saranno gli episodi che faranno la differenza.